Ehi tesoro, senti ti disturbo solo per dirti una cosa poi ti lascio dormire, ricordati di prendere l'appuntamento per il 7.30 che non te lo debba prendere io, poi un'altra cosa ho visto che il tuo passaporto nel 2030 scade, quindi io se fossi in te cercherei già di prendere l'appuntamento adesso perché se no non ce la fai, senti una cosa io sto uscendo anche per prendere due robette da mangiare per pranzo, che dici se ci facciamo un po' di lardo, una salsiccia con la sugna, una luganega, due fasoletti in braga e un po' di cipollina, giusto per fare un po' di cipollina, per festeggiare un pochino eh, io sono così contenta che sei arrivata, adesso però ti lascio dormire che sei in ferie, a dopo, a dopo, ciao piccolina Cosa ho detto? L'unica cosa che ho percepito è questa Cosa ho detto? L'unica cosa che ho detto?